Una studentessa di un college è stata trovata morta nella sua stanza dove si trovava in quarantena dopo aver contratto il coronavirus. Bethany Nesbitt aveva manifestato i sintomi del covid-19 la settimana prima che il suo corpo fosse trovato all'interno di una residenza presso il Grace College nel Michigan. Grazie per la visione!